il lancio d'opera mangio mangio adesso pagliati sono solo sono solo artigliano guadagni anche i punti vita quando ti mangi ma sono un po' forti provostino lo tiro giù no cosa è morto valkas vikas arcas circas no assolutamente che non avevo voglia provare a te la truppo qualche modo bt è a sfiora come tono un fratello vabbè non ci si servita molto il lupo balla allora adesso qual è il nostro piano no qual è il nostro primo obiettivo la mano d'argento sta cercando vuoi segnare che con l'arco adesso andiamo allora aspetta 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 ragazzi noi adesso abbiamo lasciato dietro troppe ricchezze per cui aspettiamo di trasformarci in normale recuperiamo tutte le richieste aspetta aspetta prima cosa questo lampadaglio non è taccato a niente e seconda cosa posso saltare sulle punte si sta a far vivare fantastico comunque ok allora quindi adesso recuperiamo tutte le richieste e dopo continuiamo con la missione quindi ci vediamo tra tipo un'ora o qualcosa del genere ciao abbiamo continuato la missione semplicemente trasportandoci dove ci chiediamo andare questo forte quindi via no questo è avete e si vede che rispogliano chi no certi sicuro proprio si pensa shadow meru cd è stra cattivo ok lasciamo l'arco e la ho fatto un altro fail no per il pd è o è giù spada da suplizio si coltellino si capi no non ce lo capi ma no me le caratteri dopo dopo c'è destra no no veloce allontanati allontanati falliti fail trappola fail oh vado a prendere un po' no hai fai grido valoroso che ti risparmia tempo ti amo su un po' grido il valore chievo kyle l'aiutante si pensano spesso lui spesso lui che va a usare giù p f forte tipo lontanato il suo posto il suo posto fai il eeeh cura mi vuole io guarda, guarda, guardo le immagini guarda si, ti beso il tipo lascialo, sennò dai cazzo se lo buttavo giù dal fuoco porca puttana chi ti pensa shadowmare guarda, guarda oh, il capo sta per perdere, sta morendo il capo vai shadowmare guarda, guarda lo scontro, è tutta la passione oh, ti stanno beccando gli esseri io entrerei dentro l'isola ma che non hai tante vite vai a forte shadowmare ha conquistato il capo no, è ancora là dai, vai a dirgli in aiuto, fai un furtivo con le cose comunque è chiaro che shadowmare è il capo del gruppo esatto, è lui che pianifica tutto e qua, quando registriamo sta zitto però è lui si, si ma sarà morto guarda, guarda guarda, guarda, guarda quanti vite ha lui guarda quanti vite ha lui guarda quanti vite ha lui ah, no, no stagione, indica che è cadone, voglio vedere quanti vite ha le vado ancora tutte le vado di soffizi se ne haci fatto da me spingelo su, spingelo su se non cado io, se non cado io ti prego, ti prego ti prego, shadowmare, aiutami fidato compagno Grazie a tutti